Ben ritrovati amici all'appuntamento col meteo per questo 30 novembre, ultimo giorno del mese. L'alta pressione sta pian piano abbandonando l'Italia, sta favorendo l'ingresso di una nuova staccatura di origine artica. Ecco il fronte perturbato che sta raggiungendo la nostra penisola e apporterà maltempo diffuso di chiaro stampo invernale, special nord Italia. Sull'Abruzzo per questo giovedì ci aspettiamo tempo nel complesso stabile, grazie al momentaneo ingresso di area un po' più secca che garantirà cieli sereni o poco nuvolosi, quindi non ci aspettiamo più oggi. Al mattino quindi cieli sereni o poco nuvolosi, il poveriggio situazione invariata, cieli diffusamente sereni, qualche addensamento sull'Appennino ma senza fenomeni, le massime non andranno oltre i 12-13 gradi, quindi clima abbastanza fresco. Per concludere in serata, cieli sereni ma nel corso della tarda serata aumenteranno le nubi, a partire dai settori occidentali, minimi abbastanza fredde, con valori tra i 2 e i 5 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione al prossimo appuntamento col meteo.